Ciao a tutti, mi chiamo Francesco e voglio condividere con voi il metodo che ho utilizzato per guadagnare un sacco di soldi online in poco tempo e comodamente da casa mia. Ma guardate pure voi con i vostri occhi i risultati che ho ottenuto negli ultimi mesi e che sto ancora oggi ottenendo. Guardate qua, queste sono le entrate e i guadagni che ho fatto negli ultimi mesi solo grazie a questo semplicissimo metodo che tra poco vi illustrerò. Guardate qua, 4.000 euro, 10.000 euro, 8.000 euro, 5.000 euro, 6.700 euro e tutto questo in pochissimo tempo. Guardate qua, stiamo parlando degli ultimi tre mesi. Ragazzi qui stiamo parlando di guadagnare più di 9.000 euro al mese. È solo una questione di quanto tempo dedicherete ad utilizzare questo fantastico metodo e di quanto disciplinati sarete nel seguire le poche e semplicissime regole. Possono bastare anche pochi minuti alla settimana per guadagnare 3.000 euro al mese o 5.000 euro al mese o anche molto di più. L'importante è essere molto disciplinati e seguire attentamente le poche regole che tra poco vi illustrerò. Allora, questo metodo funziona sui siti di scommesse sportive e in particolare nel calcio. Fate attenzione però che non in tutti i siti è possibile farlo, perché alcuni si sono già accorti di questo metodo e lo hanno bloccato in un modo o nell'altro. E quindi è fondamentale utilizzare il sito che vi darò io e di cui trovate il link nella descrizione di questo video. Andiamo a vedere il campionato spagnolo e dopo vi spiegherò esattamente perché è proprio quello. Selezioniamo dunque le partite della Liga e cerchiamo la prossima partita. Lasciamo stare questa che si sta già giocando in questo momento e prendiamo la prossima. In questo caso, Raio Vajasano contro Girona. Come vedete, la quota pagata per il pareggio è di 3,25. Dunque, se io scommetto 10 euro, mi saranno pagati 32,5 euro di premio in caso di pareggio. Come possiamo vedere, in tutte le partite la quota del pareggio è sempre maggiore di 2, cosa che significa che incasseremo sempre più del doppio della cifra scommessa. In questi casi vediamo che addirittura il pareggio ha una quota altissima, di 3,25, 3,70, 3,90, 3,50, insomma, sempre molto molto alta. Ma comunque l'importante è il fatto che è sempre più alta di 2, ovvero il doppio della somma giocata. Questa è la base del metodo, è la condizione grazie alla quale questo metodo è così infallibile. Infatti il metodo consiste nel puntare sempre sul pareggio raddoppiando la cifra della puntata fino a quando non esce il pareggio e dunque vinco la scommessa. Andando così non solo a recuperare tutto quello che avevo scommesso in precedenza, ma anche a guadagnare una consistente cifra. Dunque noi scommettiamo 5-10 euro sulla nostra prima partita e dopo vi mostrerò quanto incide l'importo della prima scommessa sul guadagno finale e attendiamo l'esito. Se l'esito finale non è un pareggio, noi andremo semplicemente a scommettere sul pareggio della partita successiva il doppio della cifra, dunque 10-20 euro a seconda di quanto avevamo scommesso sulla prima partita. Adesso attenderemo l'esito della seconda partita e se esce un pareggio semplicemente incasseremo la vincita e ricominciamo la serie da capo con la prossima partita. Altrimenti raddoppiamo ancora la puntata sulla terza partita e così via fino a quando non uscirà il pareggio. Tra pochissimo vi mostrerò la tabella dei guadagni a seconda di quanto abbiamo scommesso sulla prima partita e quanto lunga sarà la serie di partite senza un pareggio. Vi ricordate che all'inizio del video vi avevo detto che questo metodo mi era stato insegnato durante gli ultimi campionati europei di calcio? Avrete già capito il perché, ovvero che una condizione assolutamente necessaria finché il metodo funzioni è di scegliere una competizione, un campionato dove le partite non avvengono mai o quasi mai in contemporanea, ma sempre una separata dall'altra. E questo ricordatevelo molto bene. Ed è proprio per questo che ho scelto il campionato spagnolo, o anche quello portoghese, va bene, per questo metodo infallibile. Infatti, se andiamo a controllare il calendario di questi campionati, ad esempio ecco qua quello spagnolo, vedremo che quasi mai non ci sono partite in contemporanea, ma comunque vi consiglio di controllare bene prima di iniziare di modo da tenervi alla larga da partite del genere che si giocano in contemporanea, o anche quando queste si verifichino prossimamente. E ricordatevelo bene, questa è una delle pochissime e semplicissime regole affinché questo metodo facile per guadagnare soldi online funzioni. Adesso, come vi ho promesso, andiamo a dare un'occhiata alla tabella dei guadagni netti. Ecco, vediamo quanto andremo a guadagnare nettamente con solo 10 euro di entrata sulla prima partita, a seconda di dopo quante partite uscirà il pareggio. Che sono queste? E di quanto sarà la quota pagata in quella partita in cui uscirà il pareggio? Vedete che se prendiamo un pareggio medio ipotetico di 3,5 come quota, dopo solo tre partite avremo già guadagnato 70 euro netti. Questo è già il netto delle somme scommesse, come nell'esempio che abbiamo fatto prima. Dopo quattro partite, 130 euro. Se il pareggio uscirà solo alla quinta partita, guadagneremo addirittura 250 euro. E così via, fino ad arrivare anche a 1930 euro se il pareggio uscirà solo all'ottava partita. Cosa abbastanza rara, potete andare a controllare nei risultati storici. Ma comunque molto, molto, molto remunerativa. Pensate, 1930 euro di guadagno in un solo weekend. Ecco, andiamo a dare un'occhiata allo storico dei risultati. Dall'inizio del campionato spagnolo di quest'anno, i risultati sono stati questi. Una vittoria ed ecco il pareggio. Poi una vittoria, due vittorie, poi una vittoria, due vittorie ed ecco il pareggio. Poi una serie da quattro vittorie consecutive ed ecco il pareggio alla quinta partita. In questo caso, secondo la tabella dei guadagni, partendo da soli 10 euro avremmo già guadagnato circa 730 euro netti. Possiamo anche giocare con la cifra puntata sulla prima partita. Se abbiamo un po' di paura, possiamo abbassarla a 5 euro e vediamo come i guadagni chiaramente si abbassino. Ad esempio, se il pareggio uscirà alla terza partita, avremmo guadagnato 40 euro invece che 70 euro. Come abbiamo visto prima, puntando 10 euro alla prima. Oppure, se siamo un po' più temerari e vogliamo guadagnare più velocemente, possiamo iniziare anche con 20 euro, raggiungendo così risultati stupefacenti molto molto velocemente. Oppure anche 30 euro. Grazie ai quali possiamo arrivare addirittura a guadagnare più di 5500 euro in un solo weekend, nel caso in cui esca una serie da 7 partite senza pareggi, ovvero nel pareggio all'ottava partita. Ma questo chiaramente fa al caso di quelli come me che ormai hanno preso di mistichezza con questo metodo, perché è vero che il metodo è infallibile e il pareggio prima o poi esce sicuramente, ma è anche vero che dovendo sempre raddoppiare la puntata si possono raggiungere cifre all'apparenza molto alte, quindi consiglio sempre di iniziare un po' più bassi, almeno per le prime volte, fino a quando non si prende di mistichezza con il metodo. Questo è tutto ragazzi, spero di essere stato chiaro ed esaustivo, ma in ogni caso sono disponibile per ogni domanda. Vi lascio nella descrizione del video qua in basso il link al sito per le scommesse e la tabella dei guadagni che vi ho mostrato. Non dimenticatevi di fare subscribe al mio canale in modo da ricevere aggiornamenti su questo e su altri metodi. In bocca al lupo ragazzi e buon guadagno!